Grazie a Diversity per questo premio meraviglioso che avrei voluto venire a ritirare di persona ma purtroppo non ci sono. Grazie davvero per il significato che ha questo premio e per The Voice Senior che è una grande trasmissione e ha rivalutato gli over 60 perché la vita inizia a 60 anni. Un abbraccio, grazie.